... Ministra, solo una battuta veloce, un risultato storico questa del Ponte sullo Stretto, una battaglia portata avanti da tanto in Forza Italia. Beh, devo dire che veramente oggi questo provvedimento sullo Stretto di Messina è un grande provvedimento che attendevamo da tantissimi anni, quindi sicuramente un'ottima inizia romina. Grazie mille. Grazie mille. Ah, è lui, però non so se... Ma è lui? Ma quello che fa noi, ma è lui. Questa l'ha detto sempre i Salvini, ma se ne andava. No, 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 no. Grazie mille.